Benvenuti, amici, in questo nuovo video. Prima di tuffarci nel cuore della nostra discussione, mi preme ricordarvi l'importanza di iscriversi al nostro canale e attivare le notifiche. In questo modo potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie ed eventi che andremo a trattare. Garantiamo contenuti di qualità, quindi non vorrete perdervi assolutamente nulla. Grazie di cuore per il vostro supporto. Ora, andiamo oltre le formalità e tuffiamoci nella notizia fresca del giorno. Oggi parleremo di una figura leggendaria nel panorama televisivo italiano, una persona che ha plasmato e influenzato il settore per decenni. Stiamo parlando di Maria De Filippi, l'ex moglie di Maurizio Costanzo e un pilastro indiscusso della programmazione Mediaset. La De Filippi è nota per la sua abilità nell'intrattenere, la sua intuizione per i trend televisivi e, naturalmente, la sua saggezza accumulata in una carriera lunga e fruttuosa. Ma la De Filippi non è soltanto un volto noto davanti alla telecamera. Negli ultimi tempi si sta facendo strada un'ipotesi intrigante. Maria potrebbe assumere un ruolo ancora più rilevante dietro le quinte. E questa non è una speculazione infondata. La fonte di questa anticipazione è niente meno che Pier Silvio Berlusconi. Sembra, infatti, che Berlusconi desideri avere Maria al suo fianco come una sorta di braccio destro per contribuire a modellare il futuro della rete. Questo segna una svolta importante per Mediaset, un chiaro segno di un desiderio di cambiamento. Il piano di Berlusconi, come riportato dal TV blog, sembra essere quello di eliminare gradualmente il trash dalle trasmissioni Mediaset. Un obiettivo ambizioso, certo. Ma con una figura del calibro della De Filippi a bordo, si può dire che siano in buone mani. Il confronto tra Berlusconi e De Filippi è stato definito molto produttivo. Pare che questa decisione sia stata influenzata anche da Silvia Toffanin, compagna di Berlusconi, e dalla stessa De Filippi, conosciuta per il suo acume e la sua capacità di guidare le tendenze televisive. Sembra, quindi, che possiamo aspettarci dei cambiamenti sostanziali nei prossimi programmi di Mediaset. E, parlando di cambiamenti, la prossima edizione del Grande Fratello Vip 8 potrebbe essere un vero e proprio crocevia. C'è grande attesa per questo nuovo capitolo del reality, poiché si prevede un'evoluzione radicale. Gli influencer e gli utenti di OnlyFans potrebbero non trovare più spazio. Sembra che i concorrenti dei nuovi reality saranno persone di un'altra statura, con qualcosa di più da offrire. Questo è tutto per la nostra discussione di oggi. Ma, come sempre, la conversazione non finisce qui. Vogliamo sentire cosa ne pensate voi. Cosa pensate di questa nuova direzione per Mediaset? Credete che questi cambiamenti porteranno a una TV migliore? Siete ansiosi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip? Fateci sapere tutto nei commenti qui sotto. La vostra opinione è importante per noi, quindi non esitate a condividere i vostri pensieri. Non vediamo l'ora di leggere i vostri commenti. A presto!